Sono Cosimo Giubolini e sono un amministratore dell'azienda del Castello di Monterinale. Mi piace il fatto di essere a contatto con la natura, mi piace il fatto di poter essere io che posso agire diciamo in piccola parte per far sì che posso donare ai vini o anche all'olio se si parla di di altri prodotti che derivano dall'agricoltura toscana. Posso fare quel poco e posso utilizzare diciamo determinati accorgimenti per tipicizzare il prodotto del rispetto del territorio. I profumi del bicchiere sono come ho detto ora sono profumi caratteristici del territorio quindi sono tutti profumi derivati dal San Giovesi. Sono quei profumi di ciliegia e di di amarena sottospirito e tutta quella vasta gamma di profumi organolettrici che vanno a tipicizzare il frutto.